Bene, io direi che se ci accomodiamo possiamo iniziare quasi in orario. Bene, buonasera a tutti. Sono veramente felice di dire che questo è il giorno d'avvio, è il kick-off della quinta edizione del Festival delle Geografie di Villa Santa e sono molto felice che questo kick-off, quest'anteprima avvenga con la collaborazione del Comune di Monza, in particolare dell'assessora Rianna Bettini e dell'ospitalità del Binario 7. Io sono Lorena Ferrari, sono del gruppo organizzativo della Casa dei Popoli di Villa Santa e il mio compito in questo momento è di fare una brevissima introduzione alla prima parte della serata. Sapete che questa serata si articola in un primo momento in cui, oltre a presentare il Festival delle Geografie in generale, seguirà dopo una piccola pausa conviviale, credo gradita, una seconda parte con l'arrivo del professor Cardini, del professor Kamala Abdullah. Non entro nel merito perché avremo poi tempo, quello che voglio dire stasera, prima poi di lasciare la parola a uno degli altri nostri ospiti, il professor Gavinelli che vi presenterò dopo, quello che voglio dire è che per noi essere arrivati a questa quinta edizione del Festival delle Geografie è davvero un evento importante. Abbiamo iniziato nel 2019 con un esperimento, quasi un beta test in quel di Villa Santa, un gruppo di persone che hanno scommesso sul fatto che la cultura, la Casa dei Popoli è un'associazione culturale, fosse qualcosa su cui puntare anche in un piccolo paese dell'Abrianza di 14.000 abitanti. E tutto questo è stato possibile perché l'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Luca Ornago che è con noi stasera e l'assessore alla cultura delle Fagnani che è qua in prima fila, ci hanno creduto fin dall'origine e ci hanno creduto in termini concreti perché voi sapete che crederci è una cosa importante, dare poi fiato, risorse affinché questa fede si traduca in qualcosa di concreto è un'altra cosa. Siamo stati fin dal primo anno ospiti della Villa Camperio, della Villa Comunale Camperio di Villa Santa che ricordo essere un luogo quasi elettivo per un festival che si chiama delle Geografie perché è la sede del Fondo Camperio, cioè di una famiglia di viaggiatori che a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento ha documentato paesi, luoghi attraverso scritti e attraverso un prezioso materiale iconografico tale da renderlo riconosciuto come bene culturale della regione Lombardia. Io mi fermo un attimo qua e vorrei che però il nostro sindaco di Villa Santa dicesse qualcosa a tal pubblico. Intanto grazie. Lorena si sente? Ecco buonasera a tutti, io porto il saluto personale ma è un saluto che ovviamente arriva da parte di tutta l'amministrazione comunale di Villa Santa che rappresento, con me c'è l'assessora a delle Fagnali che è stata anche nominata da Lorena poco fa. Ringrazio ovviamente il Comune di Monza, anch'io, a nome del Festival delle Geografie di cui il Comune di Villa Santa è collaboratore, coprogettista, anche se poi il grosso, il contenuto, la parte importante e pregnante del Festival è a cuore esclusiva dell'Associazione della Casa dei Popoli. Allora, cosa dire in più rispetto e molto sinteticamente rispetto a quanto ha detto Lorena? Vi porto ancora un pochino più indietro nel tempo per darvi l'idea di quanto sia importante per la comunità di Villa Santa, comunità culturale ma non solo, anche politica, direi di Villa Santa la serata di oggi. Porto un po' più indietro nel tempo perché se nel 2019 c'è stato l'anno zero, quello che doveva poi farci capire se questo progetto aveva le gambe poi per poter proseguire, ecco io vado indietro di qualche annetto perché è di un evento che poi ha preso le sembianze del Festival delle Geografie che potesse rappresentare Villa Santa nella sua espressione di talento, nella sua espressione di eccellenze, nella sua espressione di pensiero, ecco era un'idea che ad alcune menti più o meno illuminate, ma comunque menti visionarie per il tempo in senso positivo, era un pensiero che già c'era, io dico a partire addirittura dal 2012 per quanto riguarda la mia esperienza perché prima ancora di diventare sindaco, lo sono al 2014, con un gruppo di amici appunto si buttava lì un'idea del perché Villa Santa, io lo dico sempre, viene interpretata come il comune che sta al di là, dall'altra parte del parco, perché è così, c'è il parco di Monza, poi c'è Biassono che non si capisce bene poi perché venga così collegato al parco, c'è Vedano che invece ha assolutamente diritto di esserlo, ma Villa Santa che è in piena osmosi con il parco di Monza, ci è dentro, il centro storico è la pianura che porta poi verso la mura storica, un pezzo di mura storico del parco, è sempre stato lì negli anni, ecco chi si è accorto di questo sono stati gli immobili resti verso gli anni 2000 che hanno un po' costruito anche laddove probabilmente si poteva anche evitare di costruire, ma a parte queste battute ecco l'escursus storico di pensiero che porta poi al Festival delle Geografie parte da lì, facciamo conoscere Villa Santa, diamo visibilità a Villa Santa e perché no, se riusciamo anche a dare continuità a questo elemento di visibilità allora Villa Santa diventa anche un momento per far conoscere altri e qui di altri si parla perché il Festival delle Geografie lo dice il ragionamento stesso, il titolo stesso ci porta in giro per il mondo, ma io dico una cosa in più, è una geografia umana quella attraverso la quale il Festival delle Geografie ci sta portando dal 2019 ad oggi, all'interno di un programma che si è sempre migliorato, si è sempre arricchito, ha bypassato in maniera molto agevole devo dire i Covid e ci sta portando oggi verso che cosa? Verso il primo evento teaser lancio che noi facciamo fuori dalla rete amministrativa di Villa Santa attraverso una ragnatela che ci sta portando poco lontano ma vicino a quella monza che finalmente posso lasciatemelo dire, finalmente quest'anno ha capito e ha avuto voglia di collaborare con Villa Santa e ha capito anche l'importanza di un Festival che poi, io credo tu sia d'accordo Arianna, in sinergia potrà portare molti frutti. Ecco, anche io quindi mi fermo qui perché poi i contenuti sono tanti e io solamente invito tutti quanti, io credo che però voi lo siate già parecchio amici del Festival, ma chi non l'ha ancora conosciuto, non l'ha ancora toccato, ecco, oltre a stasera spargete il verbo, ecco, venite a trovarci anche a Villa Santa dal 21 al 24 settembre. Grazie ancora, buona serata. Lascierei la parola ad Arianna Bettini perché ci sta uscitando. Grazie, intervengo anche a nome del sindaco Paolo Pilotto ovviamente per portare anche i suoi saluti, purtroppo appunto la sua agenda, essendo tanto fitta, non ha consentito la sua partecipazione, ma conoscendolo insomma sono sicura che avrebbe gradito moltissimo essere partecipe di questa serata. Quando Claudio e Alfio e gli altri del team che lavorano dietro al Festival si sono rivolti a me con quest'idea di portare appunto un teaser, un'anteprima del Festival delle Geografie di Villa Santa Monza, a me si sono illuminati gli occhi perché già dall'anno scorso, noi d'altra parte ci siamo insediati un anno fa, guardavo con appunto con la luce negli occhi al Festival delle Geografie, da una parte mangiano mille mani perché è stata un'ottima trovata, è un'ottima idea e continua ad esserlo, perché insomma l'idea è arrivata da Villa Santa, ma dall'altra parte con la convinzione appunto che sarebbe stato bello costruire un asse, un asse per portare anche alla luce il lavoro che con l'amministrazione di Villa Santa in questi anni è stato fatto. E questa occasione è arrivata, un anno dopo dal nostro insediamento è arrivata grazie appunto a questa proposta. Peraltro cade in un periodo particolarmente intenso perché ci siamo trovati un po' nella stessa situazione, in misura differente, con dimensioni diverse però, a entrare a fianco all'organizzazione di un altro festival che è il Festival del Parco, con la stessa però sensibilità a dire noi ci mettiamo a fianco, a fianco, non davanti, non dietro, a fianco a una macchina che in questi anni ha dimostrato di lavorare molto bene, molto bene anche in autonomia e quindi avere la sensibilità di non snaturare un lavoro tanto ben fatto senza voler intromettersi, senza voler influenzare troppo il lavoro secondo me era doveroso. Mi piace sottolineare questa cosa anche perché abbiamo fatto un ragionamento con una professionista che sta dietro anche al Festival della Mente di Sarzana e ai Dialoghi di Pistoia proprio a riguardo dei festival e ne è emerso un quadro a livello nazionale veramente interessante perché far nascere un festival oggi richiede una certa dose di coraggio. richiede una certa dose di coraggio perché c'è una grande festivalogenesi, ne nascono tantissimi ne sopravvivono molto pochi. Il Festival del Parco e il Festival delle Geografie a pochi chilometri di distanza hanno dimostrato una solidità, una serietà e una continuità sorprendente. A Villa Santa tanto più perché appunto da un comune tutto sommato piccolo è riuscito a proporre a un'intera provincia un lavoro davvero ben approfondito e ben costruito. Quindi la mia è tutta gratitudine di poter svolgere un po' la funzione di città-capoluogo e quindi tirare fuori e portare anche alla cittadinanza del capoluogo il lavoro appunto ben fatto e le belle iniziative che si svolgono su tutto il territorio provinciale. Quindi è un piacere accogliervi al Binario 7 e anch'io richiamo a tutti quanti insomma il fatto che fra un paio di settimane il festival entra nel vivo e quindi siete tutti invitati a Villa Camperio, a Villa Santa per entrare nel vivo del festival. Più avanti dirò due parole invece su quello che ci aspetta alle nove. Grazie. Avete avuto un assaggio, come dire, iconografico, musicale di quelli che saranno i contenuti del prossimo festival ma a questo punto entriamo nel merito dei contenuti. Il professor Dino Gavinelli che vedete qui di fianco a me non è solo un ordinario di geografia dell'Università Statale di Milano, preside del Centro Studi della Scuola di Mediazione Linguistica e Culturale, quindi qualcuno che ha molto a che fare con i temi che noi trattiamo, ma per noi della Casa dei Popoli è soprattutto un compagno di viaggio della prima ora. Lui è stato praticamente il primo relatore del primo giorno del Festival delle Geografie del 2019. Quindi per noi è veramente importante rivederlo qui perché vuol dire che, diciamo, i cinque anni, il fatto della solidità di questo festival, il superamento del rischio della mortalità infantile di un festival è stato scongiurato. Questa sera, visto che parliamo di ragnatele, visto che parliamo di infrastrutture, di comunicazione, di connessioni, abbiamo chiesto al professor Gavinelli di parlarci di un tema che è ritornato anche per noi, anche dal nostro minuscolo punto di osservazione italiano di grande attualità. Le vie della seta, perché erano le vie della seta che da Xi'an andavano in tutta la Cina e arrivavano, diciamo, tra virgolette all'Occidente, in proprio, ovviamente, questa definizione, è stata una delle grandi vie di un mondo antico e di un impero, quello cinese, è la dinastia Han che lancia le vie della seta, che voleva fermarsi nel mondo. Si diceva, dicevano che quando le vie della seta erano aperte, ben frequentate, cioè quando c'erano i commerci, gli incontri, allora la Cina stava bene. Nel momento in cui le vie della seta cominciavano ad avere dei problemi vuol dire che in Cina c'erano dei conflitti o dei problemi. Quindi voi capite che per anche la Cina di oggi quel nome evoca tantissima storia, tantissime aspettative ed è l'appiglio storico, culturale che ha guidato in qualche modo la dirigenza cinese attuale, a lanciare le nuove vie della seta, la One Road Belt Initiative, cioè la cintura che dovrebbe accogliere, mettiamola così, gli stati che si trovano non solo nel territorio cinese, ma anche gli stati che con l'Asia, senza soluzione di continuità, arrivano in Europa. Quindi una via antichissima e una tematica attualissima. È molto interessante quello che ci diceva il professor Gavinelli che questa via della seta che in qualche modo è stata messa in discussione dall'Occidente, usa queste categorie giusto per capirci, in realtà sta coinvolgendo lungo la sua strada 66 paesi che stanno già lavorando, che sono già andati avanti. Dico che è interessante perché ci introduce, adesso ovviamente lascio subito la parola lui, ha una delle caratteristiche del nostro festival, cioè quello di mettere sul tavolo dei punti di vista diversi, che non siano solo i nostri. Di non considerarci, non sto parlando solo dell'Italia, l'ombelico del mondo, perché è un mondo che ha profondamente cambiato. È volente o non volente un mondo multipolare, volente o non volente, perché le spinte sono contraddittorie, ma naturalmente vorremmo avere qualcosa e qualche informazione in più, un affresco di questa, di qualcosa che diciamolo affascina, no? Perché, ma è di qualcosa che è molto concreto e molto attuale in questi giorni. Lasciare la parola al professor Dino Gavinelli. Va bene, grazie. Allora, buonasera a tutti e a tutti. Allora, parliamo di questi aspetti, poi le slide sono pronte, puoi farle partire, eccetera. Allora, faremo un lavoro, come dire, immenso, nel senso che ho un'ora e in un'ora dobbiamo parlare di qualche cosa di enorme, ovviamente. Parto da questa premessa giocando su delle parole per farvi capire quanto in realtà il tema è molto complesso. Via della seta, vie della seta al plurale, nuove vie della seta, obor, one belt, one road, bri, belt and road initiative. In queste cinque parole molto diverse tra di loro c'è quello che dovremmo affrontare in un'ora, capite bene che è impossibile. Allora, la nuova via della seta, partiamo da qualche cosa che conosciamo tutti, ci porta a delle immagini che conosciamo bene o che immaginiamo noi occidentali. Mi alzo anche perché così guardo le slide e possiamo andare avanti, vai avanti pure, sì, intanto devo anche stare nello spazio, va bene, ascoltate, eccetera. Allora, vuol dire che possiamo leggere questo aspetto da tanti punti di vista. Allora, le vie della seta possono sicuramente essere lette in chiave storica, non spenderei molto sulla parte storica anche perché nella seconda parte della serata avremo gli storici. Quindi vi dico semplicemente delle cose di base per cambiare anche e vedere il punto di vista della via della seta dal punto di vista storico che in realtà implica già diversi punti di vista. Innanzitutto una cosa prettamente geografica, noi occidentali siamo abituati a vedere le vie della seta partendo da Venezia e dall'Occidente andando verso Oriente. È già sbagliato in partenza o perlomeno non è sbagliato ma è incompleto, nel senso che vale anche al contrario e non è soltanto un fenomeno euro-asiatico perché le vie della seta antiche coinvolgevano tutti e tre i continenti che nel mondo antico si conoscevano. Quindi le vie della seta antiche, sto usando il plurale, sono tante e non via sola e riguardano Europa, Asia ed Africa in ordine bidirezionale in tutte le direzioni. Quindi non guardiamo soltanto da ovest verso est ma anche il contrario. Tanto è vero che le carovane cinesi per intenderci già nel secondo secolo avanti Cristo facevano il viaggio dall'Asia verso dove? Verso due dei più grandi poli geopolitici e strategici dell'epoca che erano l'impero romano e il grande impero del Mali, un grande impero che occupava l'Africa sostanzialmente occidentale. Quindi dobbiamo immaginare anche questo. Questo avveneva nel secondo secolo avanti Cristo, cioè qualcosa come 1500 anni prima di Marco Polo e del milione e delle geografie immaginarie che derivano appunto da queste letture del Marco Polo, del Mille e una notte, tutta questa grande letteratura che ha un po' introdotto l'orientalismo e le vie della seta nella civiltà occidentale. E poi dopo noi conosciamo appunto Marco Polo e Matteo Ricci per quello che hanno fatto dal punto di vista storico e conosciamo molto meno per esempio invece l'ammiraglio Zheng He che è l'ammiraglio della dinastia dei Ming che in realtà invece ha viaggiato verso quello che lui chiama in maniera molto interessante l'oceano occidentale, quello che noi chiamiamo l'oceano indiano. Anche i nomi sono molto importanti perché ci danno queste diverse prospettive. Prego, ecco, avanti. Quindi la via della seta la possiamo leggere dal punto di vista storico, è la grande storia che impariamo sui libri, le storie che fanno gli imperi, i poteri forti, i poteri dall'alto, però ci sono anche le piccole storie, quelle dei diversi popoli, delle etnie, delle lingue, delle religioni in qualche modo che hanno avviato delle ragnatele, usando la parola se vogliamo dei fili di contatto, scontro, ibridazione, mediazione. Esiste tutta una palette di colori che vanno da quelli della collaborazione a quella della guerra e dello scontro lungo la quale queste vie della seta hanno dato origine a tutto un insieme di momenti di competizione, di mediazione, di collaborazione in qualche modo. Lungo queste vie, per esempio per intenderci, ma poi ne parleranno gli storici, sono viaggiate per esempio le grandi religioni, Zoroastro, il buddismo, l'islam, è arrivato andando per esempio da occidente verso oriente fino a Xi'an e lì ha trovato la sua massima espansione e addirittura ha influenzato enormemente una delle più grandi province della Cina che noi chiamiamo il Sinkiang Uigur in occidente per intenderci. Quindi storie e geografia molto mobili lungo dei percorsi estremamente variabili. Fin dall'inizio le vie della seta antiche avevano quest'idea e questo concetto dei vasi comunicanti. Si aprono tante strade, le guerre da una parte deviano i percorsi da altre parti e quindi c'è questa idea di mobilità tra Africa, Europa e Asia per intenderci. Prego. Un reticolo quindi che è andato avanti per molto tempo fino al XIV secolo quindi per qualcosa come 1700-1800 anni. Poi la dinastia dei Ming che imparava poco dall'esterno perché dall'esterno tendenzialmente c'erano dei selvaggi, degli abbruttiti e poco civili rispetto alla grande Cina classica della scrittura, della pittura, della musica eccetera decide di chiudersi in qualche modo su se stessa eccetera e quindi viene un po' dimenticata questa via della seta e viene riscoperta invece alla fine del XIX e del XX secolo con i grandi viaggiatori, i grandi passeurs come si diceva in francese che viaggiavano e attraversavano i vari continenti che andavano alla ricerca di tesori o di nuovi diciamo metalli preziosi. Prego. Ecco quindi qui vedete vi ho messo un po' quelle che sono tutti i percorsi ma la cosa più interessante è che noi chiamiamo la via della seta e la caliamo nel passato. Primo colpo di scena. nel passato non si usava questa parola le vie della seta perché il primo che l'ha inventata è un geografo che si chiama Ferdinand von Richthofen è del 1877 ed è il primo che usa la parola Seidenstrasse, le vie della seta. Quindi noi chiamiamo via della seta Marco Polo e indietro pensando che all'epoca ci fosse l'idea delle vie della seta invece erano vie di comunicazione di commercio e non passava soltanto la seta. Quindi è normale che non le chiamassero via della seta perché la via della seta era uno degli infiniti prodotti, persone, idee che viaggiavano lungo queste strade. Quindi noi stiamo usando, capite bene, in maniera molto semplicistica un prodotto e dando un nome a qualche cosa che non si chiamava così in qualche modo. È giusto per capire un po' quello che succedeva. Prego. Passiamo al punto due e leggiamo invece, come dire, le vie della seta su quello che è oggi il mainstream dominante, l'economia, i soldi, il business, la finanza. Ecco allora che a partire dal 2013 il presidente Xi Jinping ad Astana, la capitale allora del Kazakista, lancia questo primo progetto. Lo lancia, e qui ovviamente il mainstream facilmente, come dire, si fa portare e prendere la mano, lo lancia a nome di molti anche altri paesi e non solo della Cina. Ma da quel momento vie della seta, nuove vie della seta, uguale Cina. Ci siamo. In realtà erano anni in cui si stavano gettando le basi con una ventina di altri stati. Quindi questo progetto nasce già fin dall'inizio, non come un progetto cinese, ma come un progetto multilaterale, al quale partecipa ovviamente la Cina, ma anche altri paesi interessati a sviluppare e a potenziare i contatti e i collegamenti tra di loro. Qui vedete, per esempio, in questa immagine di Limes, quelli che sono appunto i grandi progetti economici, i grandi corridoi che richiamano in parte le vie della seta. C'è quest'idea di Asia, Africa e Europa, come abbiamo visto noi. Ma se noi stiamo attenti alle nuove diramazioni, vedremo anche che ci sono delle linee di espansione, per esempio verso il Pacifico del Sud e ce ne sono addirittura verso nord, verso quella che si chiama la nuova rotta settentrionale o la nuova via della seta artica, per intenderci. Tutte nuove strade che non esistevano con il concetto di via della seta tradizionale del passato. Quindi qui possiamo anche leggere le nuove vie della seta come diverse in parte o più ampie e complementari rispetto alle antiche vie della seta. Quindi una lettura storica si integra molto bene, in questo caso, con una lettura economica di sviluppo di questi nuovi percorsi. E i continenti quindi che vengono coinvolti sostanzialmente sono anche altri, oltre ai tre classici, ecco che entra in gioco anche quella che la maestra delle elementari ci insegna chiama Oceania e perfino anche nel progetto delle nuove vie della seta vengono coinvolti anche dei paesi come il Brasile, che in maniera scherzosa all'inizio della Belt and Road Initiative, il nome con cui oggi si tende a chiamare questo progetto, veniva chiamato il paese che sta sull'oceano sbagliato, perché il Brasile si affaccia sull'oceano atlantico e quando uno pensa alle vie della seta la prima cosa a cui pensa è l'oceano indiano, al massimo anche il Pacifico. L'Atlantico non viene in mente nelle nuove vie della seta. Mentre invece in questa ragnatela che è l'evoluzione attuale, quella che si chiama la Belt and Road Initiative, quindi l'evoluzione dalla via della seta al plurale le vie della seta, a Obore, e a BRI, Belt and Road Initiative, che è lo stato attuale, vedete arriviamo addirittura anche a coinvolgere le Americhe, quindi è un progetto che potremmo definire globale oggi da questo punto di vista. Quindi vedete corridoi che sono sia terrestri che marittimi, ma sono anche aerei e sono anche di telecomunicazioni, fibre ottiche, comunicazioni in quelle che noi chiameremo oggi le telecomunicazioni, quindi comunicazioni materiali e comunicazioni immateriali. Prego. A sostegno di questo progetto che cosa si è fatto? Beh, si è fatto, se leggiamo il progetto, oltre che dal punto di vista storico, anche dal punto di vista economico e finanziario, si è affiancata la vecchia banca per lo sviluppo asiatico, l'ADB, che è stata fondata nel 1966 e che ha sede a Manila, nelle Filippine, ma che è in mano sostanzialmente a tante potenze asiatiche e anche non asiatiche, quindi anche agli Stati Uniti, al Giappone, eccetera, che dagli anni 60 fino al 2013-14 ha dato un contributo sicuramente allo sviluppo dell'Asia, ma non sicuramente in grado di sostenere da solo lo sviluppo di quello che vi ricordo è il continente più grande della Terra, da un punto di vista di superficie, ma soprattutto dal punto di vista demografico è il continente che da solo raccoglie più esseri umani di tutti gli altri continenti messi insieme, perché l'Asia da solo ospita circa il 60% dell'umanità. In termini calcistici vorrebbe dire l'Asia contro il resto del mondo, l'Asia vince con i numeri, per intenderci, rispetto a tutti gli altri continenti messi insieme. Quindi questa banca da sola ha fatto delle cose sicuramente importanti, ma non bastavano. Ecco perché appunto è stata inventata nel 2014 questa banca, quindi quando Xi Jinping parla da Stana e lancia il progetto One Belt, One Road, che vuol dire prendere le vie della seta, recuperarle ma anche ampliarle, quindi novità nella continuità potremmo dire questa cosa, lui sta parlando sapendo che ben già 21 stati asiatici hanno messo in pista questa struttura. Ecco perché vi dicevo di stare molto attenti tra la comunicazione che parte subito in tromba dicendo che One Belt, One Road è un prodotto cinese, ma in realtà ci sono 21 paesi che hanno deciso di fondare una nuova banca, una banca che secondo i canoni del rating del capitalismo duro e puro ha la tripla A per intenderci. Quindi è una banca ipersicura garantita da quelli che noi chiamiamo le certificazioni occidentali delle più grandi, sapete, imprese che certificano il rating delle nostre banche. Quindi l'Aibi è una banca molto grande, è una banca asiatica di investimento e si vede immediatamente che il progetto è multilaterale perché cosa si dice in questa banca? Beh, il voto e il peso dei paesi dipende da quanto si mette, da quanto si versa. Quindi è molto liberale questa cosa. La Cina ha messo di più, in questo momento ha circa il 25%, è un ragionamento logico che noi usiamo in tutti i consigli di amministrazione delle nostre aziende e imprese, se pago per il 25% o anche il 25% dei voti. Mi sembra che il ragionamento non faccia una piega. Se uno vuole aumentare il numero dei voti aumenti, l'Italia ha circa il 3-4% perché c'è anche l'Italia in questa struttura e ve lo anticipo già, sentiremo parlare nei prossimi mesi, ne parleremo ancora, l'Italia si ritira dalle vie della setta, eccetera. Dubito che l'Italia si ritiri da una banca che ha un rating tripla. Quindi dovremmo imparare a stare attenti anche tra quello che si dice e quello che poi si fa nei fatti perché la politica dice alcune cose, l'economia ne fa delle altre, come ben sapete. E solo per darvi un'idea, siamo in un momento difficile, sapete, la geografia dice delle cose ma la narrazione della geografia che è in mano ad altri che non sono i geografi, ne dicono altri, sono molto più potenti. Ci siamo, ecco, quindi questo è solo per capirci un attimo. È stato allargato il discorso, vedete, e tuttora il numero sta aumentando, oggi sono addirittura più di 80 in base a quest'idea della cooperazione win-win, cioè uno può entrare, può uscire, eccetera, eccetera. Le piccole isole maldive con lo 0,5% del capitale sono ben accolte e votano per lo 0,5% dei progetti. I progetti che questa banca sostiene sono di vario tipo, si inseriscono perfettamente nel discorso delle ragnatele, che è il motivo del festival, prego vai avanti, perché investono in tantissimi. Qui vi ho messo praticamente quello che hanno fatto e dove hanno lavorato, è molto interessante anche vedere dove hanno lavorato, perché vedete che hanno lavorato anche in Cina, ma ci sono dei paesi dove le infrastrutture e quello che è stato realizzato è ben più importante. Questo grafico mostra che quindi la Cina è importante, ma il progetto non è solo cinese. Il 75% dei investimenti in infrastrutture, strade, ferrovie, aeroporti, fibra ottica, tutto quello che viene in mente si fa in Asia, ma non solo in Asia. E infatti vedete che c'è anche un paese come l'Egitto che è in Africa. D'accordo? Quindi tendenzialmente la banca di investimenti lavora in Asia, ma non solo. Prego. Poi tanto ve le lascio, le potete vedere. Devo correre un'ora, quindi c'è molto da dire, non posso stare qua, eccetera, eccetera. Passiamo alla geografia. Abbiamo visto la storia, l'economia, la finanza, abbiamo parlato di banca, ma io faccio anche di mestiere il geografo. Quindi vado a vedere che cosa succede in un progetto di questo tipo quando lo rapporto a delle grandi categorie come l'ambiente naturale, il territorio storico già costruito, i luoghi che noi abbiamo in testa delle nostre geografie, come ci immaginiamo questi posti. Sostanzialmente vado a vedere che cosa cambia anche dal punto di vista del paesaggio. Allora, per un geografo è molto affascinante quello che sta avvenendo con le nuove vie della seta, se vogliamo usare la parola italiana che a noi piace, che è un po' romantica, le nuove vie della seta, ma vi invito a stare attenti alle parole. Se io dico Belt and Road Initiative usando l'inglese, la parola seta non c'è. Ok? Quindi per darvi anche un'idea, quindi, di quello che sta avvenendo. Quindi la seta, come dire, va bene. Se facciamo una lettura storica di continuità, sicuramente c'è, ma oggi c'è molto altro. Ecco, allora, se facciamo una lettura di questo tipo, dove gli attori coinvolti sono tanti, è chiaro che vedere le vie della seta soltanto come un punto di vista cinese è estremamente riduttivo, perché molti paesi sono coinvolti e ognuno di loro ha un punto di vista. Noi siamo abituati, essendo italiani, a immaginare il punto di vista italiano, ma se sono tanti i paesi coinvolti in questa banca, avremo almeno 80 punti di vista. Perché la prima domanda banale è perché un paese come il Brasile deve entrare nella banca asiatica di investimenti, che sta appunto sull'oceano sbagliato. Ci siamo. Allora le ragnatele e i fili sono molto lontani e vischiose, quindi dobbiamo stare attenti. E il Brasile, se c'è entrato in questo progetto, avrà un suo punto di vista. Dico bene, funziona così. E solo per abituarvi anche al mainstream dominante, che parlerà nei prossimi mesi di Italia e Cina, rinnoviamo l'accordo e sembra che sia una cosa molto importante. In realtà l'accordo Italia-Cina è uno dei tanti accordi all'interno di questo quadro che è importante, ma fino a un certo punto per intenderci. Ecco, esatto. Allora, un primo punto di vista è per esempio quello regionale. Ecco perché noi dobbiamo tenere a mente e guardare il progetto con due scale geografiche molto diverse tra di loro a volte, il locale e il globale, e metterli insieme. Ci siamo. Allora, l'Unione Europea si è mossa anche prima, vedete, già dal 1993, per esempio, l'Unione Europea guardava a Est, guardava sulle antiche vie della seta e incominciava a fare quelle cose che vi ho scritto lì con quelle brutte sigle che conosciamo in pochi in Italia, ma va bene così, è salute mentale, va bene non conoscerle. Quindi vedete queste sigle che ci dicono, e guardate gli anni, 1993-1998 e prima di quando Xi Jinping ad Astana nel 2013-14 e poi a Jakarta parla delle nuove vie della seta, eccetera, eccetera. È molto prima perché l'Europa guarda verso est e vedete alcuni di questi paesi che sono dentro nell'Unione Europea incominciano a interagire con alcuni dei paesi che sono fuori dall'Unione Europea, paesi del Caucaso, paesi dell'ex Asia centrale sovietica, che spesso sono considerati dei crocevia strategici all'interno di questo grande continente che sta crescendo e che è molto importante che è l'Asia, dove appunto anche l'Unione Europea ha il suo punto di vista in qualche modo. Quindi ecco che l'Unione Europea si interessa e come vedete fanno parte di questa struttura anche paesi insospettabili come l'Iran che nell'immaginario collettivo europeo è considerato un paese pericoloso e un paese da tenere sotto controllo in qualche modo. Prego. Ecco. Guardando in questa direzione pensando a Turchia, Iran, Caucaso, eccetera, ecco che vedete emerge già una prima via, un primo percorso importante, quello che noi chiamiamo il percorso mediano dal punto di vista terrestre. Un percorso che vedete lì va dalla Cina all'Europa e viceversa che è stato sfruttato in maniera diciamo non molto elevata fino all'inizio della guerra in Ucraina, la recente guerra che è scoppiata appunto l'altro anno e quindi è stato tenuto in secondo piano e che invece in questi giorni, in questi mesi sta conoscendo un grande sviluppo perché è una via alternativa a quella che passa dalla Russia che si è interrotta da questo punto di vista con l'idea del principio dei vasi comunicanti. Vedete, la rotta più a nord in questo momento non si può più praticare, ecco che quella mediana che prima era un livello secondario sale di importanza in qualche modo e vedete anche tutte le varianti del progetto dove l'Unione Europea giustamente con l'ingimiranza aveva visto anche con attenzione a questo progetto dell'Unione Europea per esempio di collegarsi con il Caucasus o con l'Asia ex centrale sovietica poi si sono anche collegati altri paesi europei perché per esempio in questo progetto legato al Traceca c'è anche una forma di collaborazione con paesi come la Norvegia come la Svizzera che non sono come sapete bene dentro nell'Unione Europea ma sono nello spazio europeo in qualche modo e lì vedete la foto per esempio di un vagone che ha i due segni quello cinese e quello dell'Unione Europea con scritto Traceca che viaggia portando materie da una parte all'altra del percorso prego ecco poi questo punto di vista ovviamente è condiviso da molti paesi tutti questi paesi quindi non a caso non ci sorprende se paesi come l'Azerbaijan come la Georgia sono dentro nella banca asiatica di investimenti e nel progetto per la percentuale che hanno versato in qualche modo è un punto di vista che però ovviamente per il momento abbiamo parlato di storie di economia e di comunicazioni diventa immediatamente anche un progetto politico l'Unione Europea lo sappiamo non è un banco di beneficenza o un lus che si può scaricare nel 730 ci siamo se si occupa di queste cose perché anche delle mire interessanti le mire quale sono sono quello di diversificare le strade dell'approvvigionamento di materie prime delle comunicazioni ed è anche quella di contenere in qualche modo la posizione appunto russa che nel progetto fino all'inizio della guerra appunto con l'Ucraina era sicuramente di dominanza poi vedremo il perché rispetto a questa via quindi è un progetto che è anche di tipo politico perché cerca di contenere ovviamente la come dire il potere russo perché senza fare troppi giri di parole se io devo comunicare e lavorare con i grandi paesi emergenti dell'Asia orientale quelli che una volta si chiamavano le tigri asiatiche i dragoni asiatici avrete sentito queste parole di fantasia se voglio lavorare con questi paesi la strada più corta per arrivarci è quella di passare o per strada o sopra i cieli della Russia ci siamo e quindi ecco perché c'è questa dimensione anche di tipo politico prego avanti e quindi un quadro molto più vasto che è quello dei collegamenti vedete la banca si è allargata tra l'altro in questo progetto ovviamente non abbiamo tempo oggi di parlarne perché l'ora passa inesorabile c'è un punto di vista che è salto che è quello dei paesi arabi anche i paesi arabi soprattutto quelli esportatori di petrolio non stanno a guardare e basta c'è un'occasione si può guadagnare ci si può anche in qualche modo fare un volto nuovo rispetto a quello che noi occidentali diamo a volte di tipo negativo sui paesi arabi perché li consideriamo ricchi ma non tanto sensibili a quelle che noi chiamiamo i diritti umani per intenderci allora ecco che per esempio la banca di sviluppo islamica è intervenuta anche lei e ha affiancato la banca creata nel 2014 quindi vedete che i partner e i punti di vista aumentano ma non possiamo metterci qui oggi purtroppo a vedere il punto di vista del Qatar del Kuwait dell'Omano degli Emirati Arabi però ve la butto lì così in qualche modo un paese comunque è un lavoro vedete qua dei numeri ho scelto l'interscambio per esempio tra Cina Popolare e paesi dell'Asia Centrale e i numeri vi fanno vedere come dal 2008 al 2022 per esempio si è passato da 25 a 70 miliardi di intescambio quindi vuol dire tantissimo soprattutto se pensiamo a economie come quelle europee che sapete bene hanno un margine di crescita che è molto contenuto qui stiamo parlando di numeri che fanno girare la testa in qualche modo e si pensa appunto a ulteriori collegamenti tra la regione degli Uigur e anche qui la Cina l'ideale era passare attraverso il Kazakistan e la Russia ma ecco che questo quest'idea della Belt and Road Initiative è flessibile si può andare avanti fino a un certo punto poi se lì c'è la guerra si passa più sotto in qualche modo ed ecco che il corridoio mediano di prima viene recuperato da questo punto di vista quindi è una cooperazione abbastanza solida e che sta andando avanti prego allora un altro punto di vista che possiamo considerare è quello del Mediterraneo ne ho scelti appunto alcuni sono stato obbligato a fare una scelta stiamo lavorando cosa succede nel Mediterraneo beh nel Mediterraneo succede qualche cosa di molto importante le vie della seta marittima sono una realtà molto forte molto immediata molto meno un divaga di quella delle vie terrestri per intenderci perché ovviamente nel Mediterraneo i flussi e gli interscambi sono aumentati nel Mediterraneo e nell'Europa orientale si sono come dire instaurati degli hub di scambio molto forte in qualche modo oggi ed ecco che il Mediterraneo vede come dire stranamente una serie di paesi che hanno anche degli interessi in comune dentro e fuori dall'Unione Europea che non sempre coincidono con quelle dell'Europa del centro e del nord per intenderci sono dei punti di vista diversi e questo che ha spinto per esempio il primo governo Conte a siglare quella specie di memorandum contro diciamo il parere di Germania e Francia e all'epoca c'era anche la Gran Bretagna che invece avrebbero voluto frenare questo memorandum per intenderci ecco quindi l'Italia è come dire un po' presa tra queste decisioni accettare quest'idea di diventare un hub nel Mediterraneo data la nostra anche conformazione geografica di questa specie di portaerei che dalle Alpi scende dentro nel Mediterraneo per intenderci e quindi aiutare come sappiamo la nostra burocrazia e il nostro diciamo livello di sviluppo sociale territoriale che ci fa sempre leggere a volte come l'ultimo dei paesi europei o il primo dei paesi africani quando siamo cattivi con queste diciamo letture ambivalenti in qualche modo quindi entrare o meno in questa fase e dare un aiuto alle nostre infrastrutture che sappiamo non sempre sono diciamo all'altezza e questo crea anche di nuovo una lettura dei sospetti anche dal punto di vista diciamo strategico penso che la soluzione che si delenerà appunto nei prossimi mesi sarà una soluzione molto all'italiana lo si è già visto ve lo anticipo già a Suzhou il mese scorso quando si è festeggiato i primi dieci anni del progetto grande festa i cinesi hanno ospitato tutti gli altri paesi convitati noi stiamo parlando in questo momento di uscire dalla nuova via della seta ed ecco che si è inventato a Suzhou un mese fa un interessante compromesso che è tutto molto italiano che a me piace molto perché mi sento molto italiano in questo è nata per la prima volta un neologismo anche le nuove vie della seta locale cosa vuol dire le nuove vie della seta locale che mi mancava in questa evoluzione vi ricordate abbiamo visto via della seta il plurale obor bri e adesso devo aggiungere un quinto nome che sembra perché infatti c'era per esempio tutta la confoindustria bresciana c'erano comuni regioni eccetera che quindi ufficialmente a livello dello Stato non sigliamo più il memorandum ma poi gli scambi gli affari e i traffici li facciamo lo stesso credo che sia uno spaccato appunto la via mediana che va molto di moda sia dal punto di vista geografico in questo momento sia poi tra di noi penso che succederà così sostanzialmente se dobbiamo immaginare una cosa quindi un ritiro simbolico che sarà molto esagerato quindi prepariamoci dei mesi difficili dove si parlerà molto di questa cosa e dove interverranno molti a parlare ognuno ovviamente tra l'altro immaginando appunto il suo punto di vista come avete capito parlare delle nuove vie della seta vuol dire parlare da tanti punti di vista quello storico economico finanziario politico geopolitico geostrategico attenzione che poi geopolitico non è geografico perché la geopolitica spesso la fanno gli amirali generali che non sanno molto di lingue religioni ambiente e di geografia anche se c'è l'inizio della parola geopolitico quindi loro hanno bisogno della loro cartina con la bacchetta per far vedere chi avanza i missili fin dove arrivano eccetera io non mi occupo di gittate di missili e non sono tanto bravo a sapere quanto l'uranio impoverito faccia male o meno perché non fa parte della mia formazione diciamo di geografo d'accordo quindi per intenderci c'è però anche questa dimensione semplicemente per dirvi che il progetto è molto grande e si può leggere da tanti punti di vista e ognuno cerca di leggerlo dal suo punto di vista e dal paese dal quale parla in qualche modo mentre invece dobbiamo fare questo sforzo che è molto faticoso in un'epoca in cui domina invece il bipolarismo o il nero e il bianco e siamo poco abituati a vedere altri punti di vista questo progetto ci obbliga a fare questa fatica mentale per intenderci prego allora qui per esempio abbiamo vi ho messo una cosa che forse voi conoscete vedete il pireo per alcuni è caduto nelle mani della Cina per altri invece come è stato per il governo greco semplicemente guardando i conti ha visto prima dei cinesi il traffico era quello di colorato di nero e dopo i cinesi è diventato quello colorato di verde non bisogna avere un master in matematica pura per capire benissimo un grafico che è evidente ci siamo e allora è il solito discorso tra la prassi la dura la real politica diciamo e appunto gli interventi COSCO è ovviamente uno dei grandi partner l'altro grande paese oltre alla Grecia che ne ha approfittato molto è l'Egitto che all'interno del Mediterraneo perché vi ricordo sto parlando di questa seconda area regionale dopo l'Europa abbiamo parlato del Mediterraneo dobbiamo fare delle scelte saltiamo gli arabi in generale però facciamo un affondo sull'Egitto perché appunto c'è questa idea molto interessante lo si vede anche nella sequenza successiva prego dove si vede benissimo di nuovo l'IMES che parla addirittura in un numero delle ancore della Cina nel Mediterraneo e ha indicato vedete i porti vedete la grande concentrazione in quest'area vedete appunto Egitto e anche in parte Israele che fanno questa sorta di gateway potremmo chiamare questa parola inglese che vuol dire porta di entrata e di uscita come quelle del Saloon nella doppia direzione in entrata e in uscita e non a caso per esempio avrete sentito grazie anche a questo progetto decennale il canale di Suez è stato raddoppiato per esempio quindi da quando è stato costruito per molti decenni è stato fermo ed era insufficiente ormai al traffico a parte il periodo in cui è stato chiuso per la guerra tra Israele e i paesi arabi e poi addirittura oggi lo abbiamo raddoppiato sintomo che appunto questa gateway questa porta funziona molto bene e vedete anche geograficamente una cosa molto interessante il Pireo e la Turchia guardate l'Italia dove a parte il porto appunto sardo che vedete lì disegnato gli altri sono nel nord Italia in qualche modo da questo punto di vista e vedete poi oltre la Spagna l'Algeria e nell'idea della ragnatela siamo a Tangeri oltre le colonne d'Ercole come avrebbe detto qualcuno e di fronte alle colonne d'Ercole c'è l'oceano atlantico l'oceano sbagliato dove c'è il Brasile e di fronte c'è l'America la ragnatela ha fatto il giro del mondo Magellano in versione ventunesimo secolo abbiamo rifatto il giro del mondo ci siamo eccolo qua il progetto che potrebbe anche evolvere in questa direzione tra le tante direzioni che può prendere non a caso i cinesi hanno costruito insieme con i francesi eccetera la prima base strategica Djibouti vedete dove l'oceano indiano diventa poi Mar Rosso e arriva poi nel Mediterraneo ci siamo questo è un altro punto quindi le cose stanno cambiando molto anche nel Mediterraneo per esempio è un altro punto di vista prego e qui vediamo anche infatti che paesi come il Portogallo l'Italia e vedete l'Europa orientale in quest'idea di rivitalizzare il Mediterraneo che negli ultimi dieci anni è avvenuta vedete chiaramente tutti questi paesi che hanno siglato un accordo cinese allora anche qui solo una parola noi parliamo di un memorandum il memorandum vuol dire che sono delle grandi parole come ce le abbiamo nella Costituzione italiana l'Italia è una repubblica basata sul lavoro è molto bello però abbiamo i disoccupati ci siamo il memorandum funziona allo stesso modo è un'intenzione andiamo d'accordo quindi si mette molta enfasi su qualche cosa che però non decide esattamente numeri quantità sono delle grandi definizioni generiche i paesi lavoreranno coopereranno per la pace per lo sviluppo delle comunicazioni eccetera quindi c'è molta enfasi rispetto a quello che poi si perché oltre il memorandum poi dipende appunto da che tipi di accordo metto in essere in qualche modo quindi ecco vedete quindi l'enfasi è stata messa soprattutto sull'Italia perché l'Italia sarebbe l'unico grande paese dell'Europa che fa parte anche dei G7 che aveva firmato questo accordo d'accordo quindi ecco perché c'è l'enfasi del momento prego e questo infatti poi spiega anche le potenzialità che in teoria l'Italia avrebbe e che magari dal punto di vista pratico avrà perché vedete che i porti del nord quelli sul Mar Ligure e quelli sull'Alto Adriatico in realtà rappresentano dei punti di congiunzione tra la via marittima e la via terrestre ok e quindi sarebbero potenzialmente degli hub molto importanti dove si potrebbe passare dal trasporto su rotaia e su gomma a quello su nave e viceversa ecco perché c'è l'importanza alcuni passi sono stati fatti perché per esempio è stata creata sempre in questi anni di sviluppo delle vie della seta questo vedete nord adriatico si chiama mette insieme i porti ed è un progetto interessante con tre stati l'Italia che ci ha messo Ravenna Venezia e Trieste la Slovenia con Capodistria e la Croazia con Fiume Rieca ok questo è un progetto che per esempio è nato di cooperazione tra i paesi avanti devo correre scusate perché se no poi mi sgridano c'è purtroppo da dire e qui abbiamo dei numeri ve li lascio tanto li leggerete vedete è molto interessante ho cercato di farvi vedere un punto di vista un po' diverso perché si parla sempre in generale dell'interscambio eccetera e invece si dimentica che è un interscambio intelligente si lavora su certe cose per esempio vedete si lavora sulle infrastrutture per esempio nei paesi dell'est Europa nello scambio perché sono i paesi che dopo l'eredità sovietica più sono in ritardo dal punto di vista delle comunicazioni mentre invece per esempio in paesi come la Francia eccetera di un certo tipo si investe sui vigneti sugli alberghi sugli hotel di lusso su quello che noi chiameremo il turismo di micchia per intenderci quindi ci sono degli scambi e dei progetti ad hoc diremmo noi all'interno dell'interscambio che c'è tra l'Europa la Cina e in generale il Mediterraneo in qualche modo allora l'interscambio è aumentato molto è normale che sia aumentato molto tra i paesi dell'Asia non solo la Cina ma anche Taiwan il Vietnam eccetera è normale perché perché Europa e Asia hanno delle produzioni molto molto complementari e molto diverse tra di loro e quindi è molto facile avviare degli scambi e dei contatti quando ognuno ha da offrire qualche cosa che l'altro non ha ci siamo funziona così prego questo è il punto di vista che abbiamo già accennato vedete eccolo qua è chiaro sono le vie della seta terrestri che attraversano la Russia perché sono le più facili molto semplici perché noi immaginiamo una merce passa al confine tra la Cina e la Russia poi la Russia e la Bielorussia hanno l'accordo doganale non c'è controllo e quindi passo una frontiera in Cina e l'altra frontiera che incontro è in Polonia e sono dentro nell'Unione Europea quindi attraversando soltanto due controlli doganali io ho le merci da una parte e dall'altra in direzione ed è normale quindi che se questo avviene sulla strada anche più corta usando come dire non soltanto la transiberiana che noi conosciamo bene costruita appunto alla fine del XIX secolo ma anche le nuove strutture che per esempio la Cina sta realizzando come i treni ad alta velocità è chiaro che questo diventa uno strumento molto veloce in qualche modo potenzialità anche del trans-Eurasia express che da Pechino potrebbe arrivare appunto in Europa molto rapidamente o c'era anche prima della crisi dell'Ucraina questo progetto di fare un grande treno ad alta velocità che dall'Europa attraversando la Russia e lo stretto di Bering ci porterebbe in America addirittura con il treno ad alta velocità in contrasto con il percorso tradizionale che immaginiamo noi sull'oceano Atlantico ci siamo allora questi sono progetti che collegano interconnettono portano allo scambio di umanità ma l'umanità ha anche il dark side ha anche l'aspetto negativo se si comunica se si scambia qualcuno è contento e qualcuno non è contento di questi progetti e quindi questi progetti mano a mano che crescono e si diversificano creano anche un'opposizione ovviamente di tipo politico tra chi ci guadagna e chi non ci guadagna d'accordo? prego avanti questo appunto vedete qua si vede ancora meglio ecco perché dai porti cinesi vedete coinvolgendo appunto la Russia e l'altro paese chiave che è il Kazakistan che adesso capite bene è stato scelto per il lancio del programma da Xi Jinping e dagli altri 20 paesi che stavano dietro a Xi Jinping ecco perché è stata scelta Astana non è stata scelta così a caso ma per lanciare un motivo e un messaggio molto forte quando nel 2013 è stata avviata questa e la cosa funzionava molto bene vai avanti perché qui vi ho messo dei numeri vedete ha funzionato molto bene fino all'anno scorso vedete i grandi porti cinesi vedete il percorso si parlava già di Duisburg Madrid eccetera e questi erano già i passaggi immaginati e anche del futuro con il treno ad alta velocità ovviamente tutto questo al momento è bloccato per la vicenda appunto della guerra tra la Russia e l'Ucraina in qualche modo prego perfetto altro punto di vista vi ho detto non posso trattarli tutti vi chiedo scusa ne mancano inevitabilmente alcuni ho scelto quelli diciamo che un po' più si prestano a certe tipologie di discorso abbiamo l'Africa che è un quarto punto di vista regionale poi tra l'altro quando dico Africa non sono proprio preciso perché noi immaginiamo l'Africa come una roba tutta uguale mentre siamo molto attenti a sapere le distinzioni in Europa e se io dico Italia Svizzera Francia capisco bene cosa vuol dire in generale se parlo di Malawi e di Mozambico non è che nell'immaginario collettivo europeo sappiamo bene la differenza tra il Malawi e il Mozambico o tra il Gambia e il Senegal per intenderci ecco allora in questo discorso ho messo l'Africa ma bisognerebbe dire tante Afriche le quali infatti stanno anche rispondendo in maniera diversa vedete possiamo vedere un punto di vista che è molto occidentale l'Africa come una foglia di gelso dentro nella ragnatela con il nostro bruco che se la mangia tutta piano piano possiamo vederla come invece fa l'IMES in maniera molto più interessante dove si vedono le risorse i commerci e gli investimenti cinesi dove si vede il perimetro strategico che gli Stati Uniti hanno sull'Africa sulla quale vogliono intervenire perché ci sono delle Afriche che interessano quelle che hanno le risorse e delle Afriche che non interessano a nessuno quelle dove non ci sono le risorse e quelle dove nascono i grandi flussi di migranti ci siamo quindi abbiamo due modi di vedere l'Africa molto diversa l'Africa che sapete è un continente molto importante ed è emergente almeno dal punto di vista economico alcuni paesi sono molto molto ricchi questo è un altro e l'Africa è sicuramente oggi un terreno di scontro molto forte tra l'Occidente e più in generale chi pensa a un mondo unipolare e chi invece pensa a un mondo multipolare e le tensioni sono molto forti sono sotto gli occhi di tutti le tensioni nel Mali nel Niger con la Francia la vecchia potenza coloniale oppure paesi che hanno interrotto dei rapporti con l'Occidente per aprirsi verso la Cina quindi abbiamo dei grandi progetti prego di sviluppo e poi abbiamo la Cina l'ho lasciata apposta per ultimo perché tendenzialmente la Cina viene quando si parla delle vie della seta è la prima di cui si parla allora la Cina è un altro dei punti di vista che possiamo avere le nuove vie della seta in qualche modo dove appunto si può vedere che cosa che c'è una prima fase quella di Obor One Belt One Road dove la Cina in qualche modo si apre dal punto di vista economico sono le grandi riforme che aveva preparato Deng Xiaoping per intenderci negli anni 90 le zone speciali le zone economiche speciali eccetera eccetera sono come dire rappresentate per chi conosce la Cina c'è una città simbolo che è Shenzhen un piccolo villaggio di pescatori dove stavano persone di contrabbando perché lì c'era il confine con Hong Kong e Macao 13.000 15.000 abitanti e oggi Shenzhen ha 23 milioni di abitanti circa avvenuto quindi in due decenni è un esempio di quello mi riferisco quindi chi va in Cina può vedere molto bene questa prima fase di obor di sviluppo economico ma oggi la bel terrode initiative non è soltanto economia è anche cultura scambi istituti confuccio è anche l'idea di una connessione più ampia in qualche modo e quindi ecco perché si è passati in una fase successiva tra l'altro dal punto di vista cinese c'è una forte simbologia perché l'idea per i cinesi è che questo progetto si dovrebbe concludere nel 2049 questo però è il punto di vista cinese non italiano di un altro dei 70 paesi più coinvolti 2049 perché simbolicamente sarà un secolo dalla rivoluzione di Mao Zedong del 1949 quindi vedete che anche la temporalità cambia secondo dei punti di vista a rendere ancora più complessa una lettura unica rigida molti la fanno mi è già capitato di dare un'idea delle nuove della seta molto rigida molto netta e molto chiara mentre non è così perché sono tantissimi i punti di vista che bisogna mettere in pista vedete tanti sono gli attori tante sono le scale geografiche locale regionale continentale mondiale non si può dare una definizione unica a questo progetto prego ecco quindi la Cina torna a riflettere sulla sua storia in qualche modo è chiaro che questo fa anche un po' paura perché la Cina che dall'epoca dei Ming quando si è chiusa come abbiamo visto prima è stata poi umiliata con la guerra dell'Opio con le concessioni con l'arrivo per esempio degli inglesi a Hong Kong eccetera eccetera siamo abituati a vederla una potenza introversa poi è arrivata la rivoluzione di Mao quindi è stata chiusa e dopo le riforme invece di Deng Xiaoping e il lancio di Obor e poi della Bri invece ce la vediamo come potenza estroversa e quindi è una potenza che come dire non siamo abituati a vederla operare al di fuori del suo stretto ambito che è quello cinese in qualche modo ecco e quindi il lancio di questa iniziativa è a maggior ragione molto importante prego ecco quindi invece dal punto di vista cinese questa carta vede la Cina e vede i vari percorsi vedete che vanno in tutte le direzioni si muovono in tutte le direzioni e a dare un'idea appunto delle grandi progetti che Obor One Belt One Road aveva avviato questo è quello che si diceva già nel dicembre del 2015 quindi più o meno due anni grosso modo dopo il lancio dell'iniziativa prego perfetto e quindi qui vi ho messo un po' la complementarietà e l'importanza di tutti questi collegamenti l'idea cinese qual è? che se io incomincio a occuparmi anche di affari e di investimenti fuori dalla Cina devo avere anche un certo margine di sicurezza in qualche modo soprattutto se penso alla via della seta marittima che passa attraverso quelli che noi in geopolitica chiamiamo i colli di bottiglia vuol dire gli stretti non sono tanti li conosciamo canale di Suez Gibilterra canale di Panama stretto di Magellano stretto di Bering Babel Mandeb che è quello che abbiamo visto prima dove c'è Djibouti tra l'oceano indiano e il Mediterraneo e il Mar Rosso ma soprattutto lo stretto di Malacca dove c'è Singapore una grande città stato molto ricca che grazie proprio alla sua localizzazione geografica ha sviluppato molto la sua economia e la sua potenza e da lì passa ancora oggi circa la metà dell'intescambio commerciale sul mare della Cina capite bene che in caso di un conflitto e questo stretto se viene chiuso metterebbe in grande difficoltà la Cina come fonte di approvvigionamento in particolare dell'energia sotto forma di gas e di petrolio che passa da questo stretto quindi l'idea cinese è quella di diversificare le fonti di approvvigionamento in qualche modo prego e quindi ecco che la Belt and Road Initiative sta trasformando enormemente la Cina lo si vede se volessi usare delle parole come dire spettacolari come si fa oggi per catturare l'attenzione del pubblico potrei dire che la Belt and Road Initiative la posso vedere dai satelliti e dall'esterno della terra perché fisicamente la costruzione di autostrade ferrovie ad alta velocità si vede quindi se volessi enfatizzare e usare un tono da geografia enfatica e retorica potrei quasi dire che è uno dei progetti che nel terzo millennio l'umanità ha messo in piedi se voglio usare queste parole retoriche roboanti non ce n'è un altro così altrettanto importante e quindi ecco che è un aspetto molto interessante prego e quindi le nuove vie della seta vedete questo è il discorso ufficiale di Pechino migliorare la governance promuovere lo sviluppo iniziativa aperta è un ruolo di raccordo con la super banca che abbiamo visto prima prego ecco quindi tutti gli spazi sono buoni tra l'altro anche la guerra recente ha dato ragione in qualche modo alla Cina perché vedete si è chiuso un percorso ecco l'importanza di aprirne il più possibile da altre parti e in altre direzioni prego in generale allora per concludere tiriamo un po' le somme e facciamo una visione sistemica cerchiamo nel poco che abbiamo detto abbiamo coinvolto la storia la cultura l'economia le lingue la finanza la geografia eccetera eccetera beh cosa possiamo dire possiamo dire che finora qualcosa è stato fatto sono passati dieci anni si è fatto il punto della situazione si sono sviluppate vedete queste infrastrutture portuali gasdotti infrastrutture ferrovie autostrade installazioni per le gestioni delle sossidriche le dighe centrali elettriche costruzione di nuove linee ad alta velocità e si sono ammodernati nella slide c'è solo il format qui che lo taglia ma si è creato e ammodernizzato anche alcuni aeroporti per esempio l'aeroporto di Pechino è il risultato di questi investimenti della banca asiatica perché è diventato uno degli hub aeroportuali più importanti è stato inaugurato nel 2019 prego perfetto allora la via della setta ovviamente è contenuta perché perché come dicevamo prima si costruisce ma anche ci sono le resistenze l'umanità è costruens ed estruens inevitabilmente allora con una mano si costruisce e con l'altra invece si cerca di distruggere allora ci sono degli aspetti positivi i minori costi del trasporto sicuramente ma abbiamo delle grandi barriere geografiche le grandi distanze stiamo parlando di migliaia di chilometri che separano paesi tra loro anche molto lontani come il Brasile per esempio e la Cina eccetera abbiamo dei costi anche molto elevati perché si tratta di uniformare di omologare come dire storie di comunicazioni molto diverse abbiamo dei costi molto elevati quando si passa dalla terra all'acqua e viceversa come è il percorso intermedio oggi delle vie della seta terrestre che non passano dalla Russia che è in guerra e quindi bisogna continuamente passare dalla terra al mare il Mar Caspio poi di nuovo la terra il Caucaso e poi di nuovo sull'acqua col Mar Nero e quindi c'è una discontinuità come si dice logistica abbastanza importante e poi abbiamo anche tutta l'instabilità in molte di queste aree attraversate pensiamo a un elemento di cui non si parla più perché è stata l'ultima sconfitta della Nato dell'altranno che è stata quella in Afghanistan e le vie della seta tradizionalmente dovrebbero passare anche da questo paese di cui non sappiamo minimamente nulla oggi perché non sappiamo cosa sta succedendo perché è di nuovo chiuso al mondo per intenderci quindi è un esempio abbiamo il terrorismo in altre parti appunto quindi c'è un ostacolo anche di questo tipo prego ecco infatti qui vedete le vie della seta abbiamo detto coinvolgono un po' tutto questo dalla seconda guerra mondiale in poi noi abbiamo avuto 378 guerre di cui non sappiamo molto perché sono guerre non combattute non annunciate tenute in sordina lontano da noi eccetera eccetera e vedete che molti di questi paesi coinvolti nel progetto sono anche paesi che hanno un'elevata come dire problematicità da questo punto di vista la Siria la Libia la Somalia sono tutti i paesi dentro nelle nuove vie della seta in qualche modo ma che sono dilaniate e dire che sono uno stato oggi insomma lascerebbe molto a ridire a volte se guardo questi stati da certi punti di vista prego eccolo qui e poi abbiamo anche un altro punto di vista il punto di vista di chi non è coinvolto nel progetto gli Stati Uniti che nel 2013 avevano sostanzialmente con Barack Obama una posizione di neutralità col passare del tempo prima con Trump con lo slogan American First e poi con Biden hanno invece mostrato di fronte a questo progetto come dire un'attenzione crescente in qualche modo un'attenzione crescente che come dire ha cercato anche di mettere in pista dei programmi alternativi o anche dei programmi che come dire hanno molto puntato sulla dimensione politico-militare più che su quella economica come fa invece la Belterud Initiative e allora ecco per esempio che è nato un nuovo accordo trilaterale tra Stati Uniti Giappone e Australia dal punto di vista militare e poi c'è stata anche una crisi nel 2021 con la creazione dell'AUKUS AUKUS sta per Australia United Kingdom Gran Bretagna e Stati Uniti recentemente avrete sentito la crisi dei sommergibili la Francia li doveva vendere e poi all'ultimo momento è stata bypassata perché appunto l'Australia ha scelto altri fornitori e quello che si sta cercando di fare vedete gli Stati Uniti è quello di rimanere centrali a controllare i due oceani l'Atlantico e il Pacifico e quindi a creare una serie di collegamenti alternativi alla via della seta grazie appunto alla disponibilità del Giappone della Corea del Sud di Taiwan e della Malesia e di altri paesi della regione in qualche modo la Realpolitik però obbliga molti di questi paesi a tenere delle posizioni di neutralità e molti chiaramente oggi dicono io non voglio scegliere tra questo progetto e la Belt and Road Initiative perché uno è un progetto geo strategico militare l'altro è un progetto economico e infrastrutturale quindi ci sta pure questa ambiguità prego e quindi diciamo possiamo fare una conclusione che non è una conclusione intanto sono passati solo dieci anni e ne abbiamo davanti ancora un po' la Cina si è dato il target del 49 ma paesi come le Maldive piuttosto che non so io la Georgia o la Tanzania non si sono dati il 2049 non si sono dati nessuna data loro se questo progetto va avanti e porta dei vantaggi lo cavalchiamo punto e basta per intenderci anzi magari alcuni hanno anche come prospettiva di poter guadagnare e quello che è il guadagno può servire per aumentare il loro peso nel progetto aumentando anche per esempio le quote della banca che sostiene i progetti di questo tipo per esempio poi però è arrivato anche il covid abbiamo la guerra in Ucraina abbiamo le altre guerre in corso che in qualche modo creano problemi ci sono le tensioni che sono di nuovo aumentate sono molto forti perché questo è sicuramente credo dopo la seconda guerra mondiale dopo la fine appunto del mondo bipolare è sicuramente il momento di massima tensione che stiamo vivendo a livello politico tra gli stati quindi è molto facile come dire avere un quadro negativo più che positivo nello sviluppare appunto i contatti e le cooperazioni tra gli stati e quindi è un momento che però possiamo leggere anche in un altro modo infatti vi lascerei con questa diciamo frase interlocutoria questa crisi però se le intendiamo con il principio dei vasi comunicanti di Archimede potrebbe in realtà rafforzare il progetto perché se c'è la crisi di lì e proprio perché ci sono le crisi bisogna cercare altri scenari altri mercati e altri sbocchi e altri collegamenti quindi paradossalmente la crisi potrebbe rivelarsi invece per slancio a dei nuovi progetti prego e quindi vi ringrazio vi lascio appunto con i soldi la via della seta vista dalla Cina e chi invece ha paura e vede tutto questo come un grande serpente e lì sono disegnati i cattivi del momento spero di non avervi annoiato ho fatto grazie